Come ho fatto a rimettere il carnero pistola? Ok, perfetto, molly il poliziotto è tornato ragazzi Ah! Aiuto, aiuto Ciao ragazzi, siete voi? Vi prego, aiutatemi a liberarmi Il poliziotto molly mi ha chiuso in carcere Non riesco a uscire Aiutatemi, lasciate tanti like Sono sicura che se lasciate tanti like Mi libererà, è molto cattivo Questo poliziotto Allora, adesso Intanto questo cappellino Mi aiuto E poi adesso io uscirò di qui Lo so che ce la farò uscire Con questa bala si può giocare Aiuto, aiuto Devo fare in fretta Se no mi verrà a prendere Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Niente, sono qui, vedi? No, no, mi sto muovendo Salve ragazzi, io sono il poliziotto molly Avete qualche problema da risolvere? Chiamatemi Io sì, avevo qualche problema Che problema è? Questa cosa mi sta rovinando la mia camiglia No, 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 no Tu devi stare in silenzio Perché io ti ho zuffato Eh? No Posso, per favore, togliermi questa? Dai, sentiamo, sentiamo Eh, volevo chiedere se potevo togliere questa cosa Ok, va bene Togliamolo un attimo Sì, sono libera Sono libera No, come libera? Sono libera Sono libera Sono libera Posso togliere anche questa? No, 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 no Calma, calma, calma Ma questo birrettino non mi ci sta Facciamo così Io ti libero Però mi prometti che fai la brava Bravissima Ok Bravissima Va bene Caviamo anche questo Grazie Grazie Caviamo anche questo Ecco Sei libera Libera Correre Libertà vigilante No, 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 no Libertà Dove? No Sono libera Sono libera Libera Cos'è tutta questa confusione? Cos'è tutta questa confusione? Eh Devo prendere la pistola La banana No, 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 no La pistola banana No La pistola banana Devo prendere No, la pistola banana No, la pistola banana No La pistola banana Struzza questa cosa No Sei in libertà vigilata Hai capito? Cosa vuol dire? Quindi devi rigare dritto Cosa vuol dire? Rigare Rigare Dritto Rigare Allora Devo rigare Devi compilare questo Ecco Ho capito cosa vuol dire Rigare No, 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 no Devi compilare Questo Questo Sì, è un modulo Del carcerato Ma Ma questo è fake È finto No, no, no Non è finto Facciamo che torni con me In carcere No No Vieni, forza Ma dobbiamo compilare questo Eh, va bene Lo compili In carcere Sì, sì Lo compiliamo in carcere Per favore Ma io non voglio Forza, forza Andiamo, andiamo Per favore Io sono la legge Io sono la legge Ma vedete Questo è finto Comunque No Cosa Questo è finto Cosa è finto? No, no, no E niente Stavo scherzando Bene Adesso mi devi fare Dieci flessioni Eh, se Io non le so Lì Io non le so fare Le flessioni Dieci flessioni No, lo devi tenere No, non mi sta Non mi sta Non mi sta C'è una carcerata Io non le so fare Vai, dieci flessioni Io non le so fare Le flessioni Vai Uno Io non le so fare Le flessioni Due Polpa della zapatta Liberatevi da qui Comunque Signor poliziotto Eh? Questo qui È falso Questo È falso Questo è una Desi È vero Cosa? Eh, niente Volevo dire Che Questa Questo qui Eh Non è molto La moda Sa Io Ti cascano anche I cappelli per terra Come non è la moda? Così Lo devo tenere Ecco Così Così è meglio È meglio È meglio ragazzi Se lo dice lei Così è più credibile Se no non facevi paura No Così è più credibile Quindi E se lo giro un po' così Fantastico È meglio Perchè Adesso sono io il poliziotto La dichiaro subito in arresto Perché è questa cosa Adesso Sono io il poliziotto Su Giù Subito Lì Allora Adesso tu devi stare buono Lì capito E metterti questa palla Che mi hai fatto tenere Ma scusa Ma scusa Ero io il poliziotto Adesso sono io Perchè io ho il cappello Ok Va bene Allora mettiamoci Sto coso Sì Mettiamoci sto coso Scusa ma ero io il poliziotto Campo di scena Bene Allora se sono un criminale Sì No Mi sei non dimenticato la vista No Vieni qui Vieni qui Vieni qui Adesso mi devi slacciare sto coso Ok 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 Le slaccio subito quel coso Slacciami sto coso Forza Sì Te lo slaccio subito Slacciami subito Scusa con i piedi Slacciami subito Sì Ora Un attimo E ridammi il cappello Sì Mi scusi E rimetti questo sulla tua testa Mi scusi Come ho fatto a rimetti a carcare la pistola Ok Perfetto Ma lì il poliziotto è tornato ragazzi Ha Taglimi questa pistola di addosso Vedo che sai anche cantare Bene Rimettiti le manette No Sì 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 Ti devi rimettere le manette Ma perché Bravissima Adesso ti lego Perché sei scappata Come mi lego Si hai infranto l'articolo 12 barra B7 9 Di che cosa Della legge Della costituzione Non sai fare il poliziotto Adesso tieni questo Ok va bene Tieni Perché ti devo legare adesso Come mi devi legare Con questo Con la scena del crimine No Che cos'è questa roba La scena del crimine Che cos'è questa roba Quindi iniziamo legarti No 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 Starei scherzando No 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 per favore Poliziotto non lo faccia Per favore Ecco Ecco così No 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 Perfetto scena del crimine non è che ti ho scritto do not cross scena del crime scene la seguente puzza no io non puzzo puoi scrivere tutto ma non che puzzo e non ha rispettato il codice della strada non c'è nessun codice della strada toglimi queste cose i calzetti e i vestiti non sono i suoi li ha rubati ma cosa? ma questi sono i miei calzettini non ha rubati proprio nessuno toglimi questo compresi i capelli i capelli? i capelli? ragazzi ma questi capelli sono sempre stati miei e sono un po' cresciuti però sono i miei ha infranto anche le regole della costituzione marziana io non so neanche che cosa sia la costituzione marziana anni di galera dimmi il numero un numero? un numero qualsiasi a me piace il 3 perché è il numero prefetto 3 anni di galera cosa? no! allora dicevo 0,5 ok se ne avrà 3 anni no 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 liberami subito vieni subito qui vieni qui vieni qui vieni qui no vieni qui allora molly ragioniamo pensiamo così se loro mettono almeno 5000 like tu mi liberi va bene? un 5000 va bene vediamo ragazzi se li lasciate altrimenti gatta buia si 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 vi prego ragazzi lasciate tantissimi like che voglio uscire di qui lo vedremo lo vedremo io ho paura del muoio intanto io me ne vado e ti lascio qui vediamo ragazzi se li lasciate ciao Rabi ciao 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 Grazie a tutti.